Ciao ragazzi, mi mando un semplice saluto su YouTube e vi racconto che è stata una giornata fantastica a Zeus, sono stato bene con tutti gli compagni di Zeus, abbiamo fatto un'ottima festa di carnevale e rivolgo una pelle ai tifosi mostrieri di stare tranquilli che la smarrer può riprendere. Saluto in particolare tutti quelli che mi seguono in Facebook, Twitter e tutti gli amici. Ciao ciao e vi regalo un grosso abbraccio e vi auguro buona serata. Ciao per Samuele.